Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, code tra il bivio con la variante di Vali con la Quercia e Firenzola. Sempre in A1 per consentire attività di ispezione delle opere d'arte. Stanotte, in orario 22.6, sarà chiuso lo svincolo di Incisa Reggello in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Roma. In Fibili, rallentamenti per fumo tra Empoli, Ovest ed Empoli in entrambe le direzioni. Disagi anche sulla linea ferroviaria. Sulla strada regionale 429, variante di Certaldo, divieto di transito per la chiusura in entrambi i sensi di marcia. Tra i chilometri 12.50 e 17.650 circa, nei comuni di San Gimignano, Gambassi, Terme e Certaldo fino al 12 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!